O volete fare un piccolo commento, insomma, degli eventi di quest'ultimo mese? Io voglio andare un po' controcorrente, nel senso che il fatto che l'Ucraina ufficialmente, anche di fatto, si è chiusa a riccio in difesa, possiamo dire, dopo aver per un anno abbondante parlato di offensive, di conquiste della Crimea e altri sogni bagnati che avevano gli ucraini, non significa che l'Ucraina è finita, anzi, secondo me questo sarà il momento più difficile per la Russia, per svariati motivi. Il primo perché gli ucraini sono dei russi, fondamentalmente, ingannati però sono dei russi, quindi in difesa storicamente sono ostici. Poi faremo vedere dei filmati dove veramente questi combattono fino all'ultimo uomo. Seconda cosa, la difesa, per come si sta svolgendo con le tecnologie attuali, è molto avvantaggiata in questo momento. Poi comunque il sostegno occidentale è diminuito, però per certi aspetti diventerà più forse di qualità, nel senso che punterà molto sui sistemi antiaerei. Abbiamo visto con i Patriot spostati molto in avanti, perché prima stavano a Kiev, ci saranno ancora a Kiev, però li hanno mandati altri Patriot racimolati un pochino in tutta l'Alleanza Atlantica, Odessa, e un altro sta, se non erro, sulla zona del fronte, diciamo dietro Rabotino, quella zona là. E quindi la situazione non sarà facilissima da gestire dai russi e comunque in ogni caso vorrà un tributo di sangue maggiore. Cosa che già sta avvenendo a Dveca, per esempio, no? Da quello che si sa. E questo, diciamo, forse è uno dei momenti più difficili che ci sarà per la Russia, secondo me. Lascio la parola a Stefano, che vuole esprimere. Sicuramente il passaggio da una fase difensiva a una molto ben preparata durante l'estate per i russi, con un dispendio di forze e di mezzi enorme da parte degli ucraini, stiamo passando a una fase opposta, in cui gli ucraini devono fare economia dei mezzi che hanno ancora, perché sanno a quanto gli dicono gli occidentali, non arriveranno altri in pari numero rispetto al passato, che è un eufemismo per dire abbiamo esaurito la possibilità di inviarvi i mezzi, e quindi puntano a cercare di difendersi. Lo spostamento della batteria, a cui ha fatto riferimento Max, è avvenuta perché cercano di coprire la posizione di Crinchi, che era in un momento molto critico a causa dei pesanti bombardamenti di Fab 500 e Fab 1500, che sono piovuti ogni giorno sulle posizioni ucraine, causando in mani perdite alle formazioni di Marines che difendono questa testa di ponte immobile sulla sponda sinistra, che ha probabilmente una sola ragione politica di esistenza, e ha visto quindi, credo abbattere 1-2 aerei in tutto, non i 4 o 5 che hanno detto gli ucraini in tre giorni, perché in realtà hanno spacciato per aerei russi degli SU-27 ucraini che erano stati abbattuti a sud di Zaporoghe, e questo credo che sia stato anche preparativo all'attacco che c'è stato poi su Fedorova, il porto a est della Crimea. Comunque sia il punto sulle difese aeree è questo, che l'Occidente ha una capacità produttiva di missili antiaerei che è limitatissima, questo per due ragioni, il primo è il costo di ogni singolo missile che è notevole, è la seconda ragione che a causa del costo notevole gli ordini da parte occidentali erano limitatissimi e pertanto le industrie che li producono avevano calibrato la loro capacità produttiva sulla base degli ordini che arrivavano e quindi è di poche unità all'anno, nel senso che non possono assolutamente far fronte a un consumo mensile quale quello che c'è a causa delle necessità del conflitto ucraino. Fino adesso hanno fatto ricorso alle scorte che avevano, ma se devono basarsi sulla produzione nuova non sono assolutamente in grado di fornire più che qualche giorno di difesa all'Ucraina in caso di attacchi. Da parte quindi russa è un momento delicato, devono interpretare al meglio quella che è la fase offensiva, cioè non farsi prendere la mano dalla smania di conquistare del territorio ma proseguire con piccole azioni che mantengono elevata la tensione e l'attività militare e operativa degli ucraini in modo che consumino risorse il più possibile e facciano in modo che queste risorse vengano meno. Ecco, se invece si fanno prendere la mano e cercano grandi azioni offensive corrono il rischio di finire nella stessa trappola in cui sono finiti gli ucraini e cioè di esaurire le proprie capacità offensive e ritrovarsi poi a dover immobilizzare di fatto il conflitto. Sì, tra l'altro non essendoci un sistema regolamentato delle forniture in Occidente e negli Stati Uniti a prezzi spropositati rispetto ai costi dichiarati dei russi, si parla di 5-6 anche 7 volte, no? Ma guarda, il costo di un proiettile singolo, un colpo di proiettile da 155 mm prodotto in Germania costava intorno ai 1000 euro 1 prima dell'inizio del conflitto, poi durante il conflitto a causa degli aumenti delle richieste è salito a poco più di 2000 euro, quindi poco più del doppio, che però è un costo esagerato rispetto a quelli che sono i costi di produzione dello stesso tipo di munizionamento da parte russa. Esatto. Però aspetta, scusa, ti interrompo Stefano, c'è un problema. Tutti gli esplosivi sono di base chimica dei nitrati. Allora, quindi stiamo parlando dei fertilizzanti per intenderci, no? L'aumento dei costi dell'energia ha impattato in maniera così forte sulla produzione appunto dei fertilizzanti, quindi anche indiettamente degli esplosivi, per cui tanta produzione di fertilizzanti è stata bloccata in Europa, perché i costi dell'energia hanno portato a aumenti del 75% e questo avviene quindi di conseguenza anche sugli esplosivi, quando vai a produrre esplosivi, perché sono ad alta voracità energetica. Industrialmente, industrialmente è la stessa produzione del colpo dell'artiglieria. Poi chiaramente l'industria tedesca ci mangia solo su questo. Max, industrialmente è anche la stessa produzione del proiettile, a parte l'esplosivo che ci devi mettere dentro, che poi è un plastico, se ben mi ricordo. in questo caso avviene per fusione del pezzo, quindi della ghisa di cui è fatto. E questo comporta... Sto parlando della produzione dell'esplosivo. Sì, 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 e io ho aggiunto anche il discorso della produzione del proiettile vero e proprio, che viene fuso il materiale, quindi colato poi in stampi. Questo comporta un ulteriore utilizzo di grande energia, che è chiaramente molto più costoso che non in passato. Bene, direi di passare... Che è successo qui? Tanto tu cerchi che io anticipo gli argomenti, così andiamo più veloci. Dove stai a vedere, no? Sì, quando parlo di qualità, diciamo degli aiuti occidentali, che si manifesteranno in un miglioramento della qualità, qui abbiamo un drone ucraino di attacco, c'erano altre immagini un po' migliori, perché questo è un pochino... Cioè questo, sì, praticamente è un drone molto grande, questo UG23, il quale ha una testata, se non erro, di qualche decina di kg di esplosivo. Circa 30, mi sembra. Ecco, sì, e poi dipende da quanta autonomia gli vogliono dare, no? Perché possono diminuire o aumentare l'esplosivo e c'è un buon profilo aerodinamico e quindi ha una scarsa visibilità radar, però c'è un motore a coccetto e in miniatura, come diceva Stefano prima, un'anteprima di trasmissione, però quindi ha dei costi elevati di produzione e anche una certa difficoltà, però possono far male questi droni, perché nel fronte immenso, con la rete sardellitare nata completamente a disposizione degli ucraini, quindi con gli obiettivi in tempo reale comunicati agli ucraini, questa roba può far male ai russi, sicuramente. Come purtroppo... Sì, ha circa 700 chilometri d'autonomia, quindi può raggiungere Mosca. Può raggiungere veramente tanti posti, i sensibili in Russia. E poi abbiamo il discorso degli F-16, che abbiamo già praticamente alcuni squadroni di F-16 che stavano in procinto, se non già sono sulle basi aeree, quelle più a ovest, più protette ucraine, e qua c'è anche un discorso di come verranno utilizzati. Per esempio, ci sono due schemi fondamentalmente, uno che decollano dalle basi ucraine, però il F-16 rimane molto basso, in quota, lancia gli AIM-120, che sono dei missili aria-aria, per colpire appunto degli aerei russi, scusate, e lanciandoli, dato che è basso e non può, diciamo, inquadrarli con il radar, praticamente l'aereo AWACS, che vola sulla Romania o che vola sul Mar Nero in acqua internazionale, inquadra, lo prende, diciamo, in carico e lo manda contro l'aereo russo. Questo già è un atto di guerra in sé per sé, perché praticamente è l'aeronato che abbatte l'aereo russo. Oppure l'altra alternativa è che invece decollano direttamente da basi NATO in Romania e questo, in ultima analisi, darebbe la possibilità ai russi di attaccare le basi NATO, però con le conseguenze dell'articolo 5. Questa, diciamo, è la situazione che si sta prospettando. Quindi comunque è un coinvolgimento ancora più esplicito, insomma, della NATO. Ancora più esplicito, una ricerca dello Stato profondo americano del confronto a tutti i costi, perché sono loro che decidono, con la Russia, perché, come ho sempre detto, la loro idea non è una partita a scacchi, ma è una partita a poche, quindi c'è un rilancio continuo, un rilancio continuo per rendere la posta sempre più alta e poi, visto che la Russia comunque sul campo sta guadagnando posizioni, arrivare a uno scontro totale. Cercano quindi di spostare, diciamo, sul discorso della qualità in piccole dosi, perché grandi dosi non riescono a produrre proprio grazie al fatto che ormai i piloti ucraini ce ne sono veramente pochi e anche, come diceva prima Stefano, ci sono dei limiti nella produzione dei missili terra-aria che però possono far male ai russi. L'esempio dell'affondamento della NAE Nova Cercassi è un esempio, diciamo. Lascio la parola a Stefano. Quell'episodio in particolare ci dice che l'impiego di mezzi nato per scandaliare i cieli del fronte russo è un impegno continuo, nel senso che solamente loro potevano dare indicazione del momento in cui non fosse stato in volo un A-50 Beriev, predisposto appunto alla guida e al controllo degli spazi aerei a bassa quota in territorio ucraino. Quelli, per capirci, che hanno causato una moria di mezzi aerei ucraini negli ultimi due mesi. Probabilmente a causa della pausa notturna hanno visto il momento in cui in volo non c'era uno di questi aerei e hanno sferrato l'attacco. A seguito dell'attacco o un MiG-31 o un SU-35, di quelli in volo costantemente, si è diretto verso il settore, ha puntato da quota elevata i suoi radar che arrivano fino a 400 chilometri di gittata, ha individuato i due SU-24 a bassa quota che rientravano il più velocemente possibile alla loro base, ha lanciato gli R-37 e li ha battuti. Il problema è che quando volano a bassa quota, tra l'altro, così i piloti non hanno scampo. Il problema è che nel frattempo c'è stato questo colpo propagandistico della distruzione della nave che serve più che altro a spostare un po' l'attenzione ai titoli dei media che in questi giorni comunque hanno cercato di calare nuovamente il silenzio sulle operazioni di guerra in Ucraina, ne parlano il meno possibile. È un colpo ad effetto nel senso che si vede l'immagine dell'esplosione, come si vede la nave affondata, ma dal punto di vista dell'utilità al conflitto, questo tipo di azione ha una validità che è assolutamente marginale, nel senso che la guerra tra la Russia e la NATO in Ucraina si svolge principalmente a terra e quindi non si capisce nemmeno quale sia l'utilità da parte dell'Ucraina di impegnare così tante risorse nel ricercare obiettivi navali. Questo è chiaramente un indirizzo da parte della Gran Bretagna che organizza e progetta questo tipo di operazioni contro la Russia perché vuole danneggiare la flotta, la flotta russa. Ecco, questa è l'unica spiegazione per questo tipo di azioni. Da parte Ucraina invece far parlare del colpo di Fedorovka piuttosto che della mobilitazione assurda che viene portata avanti in questi giorni, ricordo che da domani partiranno addirittura i posti di blocco in giro per l'Ucraina che fermeranno le macchine, fermeranno i passanti e controlleranno la posizione di tutti dal punto di vista della mobilitazione e se qualcuno risulta nei parametri della mobilitazione e non ha risposto alla chiamata viene immediatamente fermato e inviato ai campi di addestramento. Ecco, questa è la situazione che c'è in Ucraina, per non parlare poi dei parametri che sono stati ampliati nel progetto di legge che deve essere approvato in questi giorni e stiamo parlando di qualcosa di allucinante, cioè persone che hanno arti mozzate addirittura per quanto riguarda gli uomini che magari durante un passaggio della guerra magari nei primi mesi hanno subito l'amputazione dei genitali, vengono arruolati anche loro Ma quello è il meno, scusami La gamba, addirittura la gamba, il piede, la mano Quelli che gli amputano la gamba, li vogliono mandare, quelli con occhio solo Ma per dire, sì Per dire, ci troviamo di fronte a persone che hanno subito mutilazioni pesanti che ne limitano la vita futura e vengono comunque arruolati, anche se hanno già dato fin troppo al regime ucraino del loro, vengono inviati nuovamente al fronte, cioè al fronte, arruolati nuovamente Poi se vanno al fronte o se invece vanno a sostituire i magazzinieri, il personale che lavora nelle retrovie in qualche modo è un altro discorso, ma il punto è che quelli che adesso svolgono quel lavoro devono essere mandati al fronte, viene anche da chiedersi a sostituire chi, visto che loro ufficialmente dovrebbero avere un numero limitatissimo di caduti, ecco dal punto di vista ufficiale Scusa che ti interrompo, vogliamo far vedere un filmato perché sennò sembrano soltanto le nostre parole Questi sono immobilitati Questi sono i soldati attuali ucraini Mobilitati, esatto Penso che sia una territoriale Sì, questa deve essere una caserma di addestramento nelle retrovie dove ci sono i soldati immobilitati Se guardate l'età media di queste persone capite che c'è un problema C'è un grosso problema, vuol dire che i giovani non ci sono più Ecco, vai Max Ah, scusa Stefano No, no, vai Il più giovane qua c'ha 35-40 anni I più giovani c'erano 40 anni i più giovani Mentre invece la media mi sembra che sta sull'età mia di Stefano E forse anche tenuti un pochino peggio di noi Ha un'informazione che riguarda la nave colpita e affondata Perché pare che sia affondata alla fine Sì, sì, è affondata E che la nave era praticamente utilizzata per il fronte siriano Per il trasporto di materiali in Siria Ma era stata usata, adesso mi sembra che non venisse impiegata per quello Chi era lì ferma da tempo, sì Anche questo è un errore grave Che fosse ferma da tempo in una rada del porto, ecco, al molo Cioè, è assurdo Poi tra l'altro era circondata da navi molto più importanti Dal punto di vista, diciamo, militare Che non sono state sfiorate Cosa significa, Max? Probabilmente sono anche i tempi di preparazione dell'attacco Che sono molto lunghi, no? Io ho una cosa Non so se era inutilizzata Perché comunque ho visto un'esplosione Che secondo me è difficile pensare che fossero quei due scalp Che riuscivano a fare un'esplosione del genere Quindi non vorrei... No, no, infatti hai ragione Hai ragione, Max Hai ragione Quella è l'esplosione di una... Esatto, esatto È il contenuto all'interno della nave Che esplosce lì Ed è stato preso bene pure Perché non ha fatto esplosione successiva Se tu ci hai fatto caso Sì, era stata colpita in precedenza Ed era già in fiamme Quando poi è arrivato il colpo successivo Che ha causato l'esplosione del deposito, diciamo Qualcosa... Non so se effettivamente ci avevano carico di droni Come dicono gli ucraini Questo non te lo so dire Ma credo più qualche cosa di tipo Di carburante per razzi o qualcosa Perché alla fine delle fini Se ci fai caso Esplosa molto verso l'alto Sì Ma le gru ad esempio Che erano a fianco della nave Non sono state danneggiate più di tanto Bravo, ci ho fatto caso anch'io Infatti mi aspettavo che le gru Piegate, piegate Invece no Niente Niente Senti Visto che stai sopra C'è Arestovic Vogliamo dire due parole su... Vai Anche quattro Penso se le merito Lui ha detto che risponde subito Alla chiamata alle armi Va al fronte Infatti sta a New York Esatto Anche se Diciamo Il personaggio è particolare Nel senso che sicuramente Nella media ucraina Stacca per intelligenza Rispetto alla media dei politici ucraini Per capacità di analisi E anche per una certa lungimiranza Perché lui se ne è uscito Dal governo ucraino In tempi non sospetti Cioè prima dell'inizio della contro E anche prudenza Perché se ne è uscito dall'Ucraina Chiaramente prudenza Perché se ne è uscito dall'Ucraina Ma fino a un certo punto Perché New York Non mi sembra il posto più adatto Per fare certe esternazioni Perché lui Da una critica felpata Al regime di Zelensky Gradatamente È passato delle critiche Sempre più ficcanti Fino all'ultima uscita In cui dice che praticamente L'Ucraina Si dovrebbe Dovrebbe abbandonare I piani per far parte dell'Occidente Anzi dovrebbe Annunciare un'azione legale Contro i paesi occidentali Perché non l'hanno sostenuta Adeguatamente E che gli hanno fatto fare Una guerra contro la Russia Che non l'hanno sopeva Ma gli hanno fatto fare In certo senso è vero No ma noi lo sappiamo Noi lo sappiamo bene Che questa guerra La voleva l'Occidente Diciamo che E questo fa cadere Un certo discorso Dell'Occidente Si È detto che praticamente Durrebbe Comunque l'Ucraina La Russia Hanno una grande tradizione Storica comune Amen Non l'ha detto E quindi Non c'è motivo Per fare questo Questo genocidio Di entrambi i popoli Questa Queste sono dichiarazioni Molto interessanti Perché E sono molto più frequenti Si stanno sempre più Intensificando No? Eh sì Perché Allora Le cose sono due O questa Arestovic Ha preso Un moto di coscienza E rischiando la sua pelle Fa un'esternazione Di questo genere Perché non ti puoi sentire Molto più sicuro A New York Rispetto che a Kiev Quando fai delle Oppure Oppure Diciamo Dei Patroni occidentali O perlomeno Una corrente Dello stato profondo Occidentale Non gli ha detto Di uscirse Nei così Perché per lui Forse ci sta Un futuro politico In un'Ucraina Che deve assolutamente Trovare un accordo Secondo me Questa è la preparazione Questa è la seconda Diciamo La seconda Che hai detto La seconda Perché Se Il piano difensivo Diciamo Che l'Ucraina Abbiamo visto che l'Ucraina Non è in grado di attaccare I russi E questo ormai L'hanno capito anche Gli ucraini Adesso Sta cercando Di capire L'Ucraina E anche i suoi patroni occidentali Sei in grado di difendersi Ora E da qui abbiamo I 24 F16 Da qui abbiamo L'utilizzo Di scalp Sempre più mirato I Patriot Messi Più avanti A rischio E' pericolo Perché chiaramente Più li metti avanti Più il mondo Filo russo Latente Può Fare una soffiata O comunque Beh no ma il radar Quando attivi il radar Ti sveli Sì Però il problema Non è tanto Il problema è vedere Dove questi sono Chiusi In questi grandi hangar Che gli permettono Di sfuggire i satelliti E sai Lì Ci può essere qualcuno Che si è scocciato Che il figlio Gli è morto Al fronte O cose di questo genere Che fa la La soffiata No Pure questo Dobbiamo calcolare Perché più li sposti Nella parte filorussa Cioè verso la Russia E più L'amore per l'Ucraina Diminuisce E quindi Ci sono C'è una certa Partigianeria Comunque C'è una certa Diciamo un puntare Sul Lato forte Del militare occidentale Cioè sulla qualità Mino quantità E più qualità No Anche perché Tutta la roba vecchia Gli abbiamo già data Ed è svampata Sì non c'è quasi più niente Esatto Quindi Gli Abrams Si guardano bene Di mandarli avanti Perché svampano pure loro Senza problemi E quindi Arestovic In quest'ottica Se fallisce Il piano B Perché Il discorso difensivo È il piano B Ci sarà un piano C A un certo punto Che sarà La Diciamo Trovare una soluzione Diplomatica E Arestovic Potrebbe essere Un papabile All'interno Non voglio dire Lui a posto di Zelensky Però all'interno Di un Un governo Ucraino Di transizione Ed è In questo senso Io vedo L'esternazione Di Arestovic Non so Tu che cosa ne pensi Stefano Ma che c'è Una partita aperta Dal punto di vista Della successione A Zelensky Zelensky lo sa bene Non vuole Non vuole cedere Lo scettro Ha detto L'altro giorno Che finché c'è guerra Non ci possono essere Le elezioni presidenziali E quindi vuole Tirare dritto Anche oltre La scadenza del mandato Che ricordiamo Se perdesse Anche per un giorno Il tempo Nel dichiarare La La legge marziale Lui Sarebbe di fatto Decaduto Come presidente Attenzione Perché il suo mandato È già scaduto E quindi Deve stare attento Anche ai tempi In cui Promulga La prosecuzione Della legge marziale Perché altrimenti Rischia Rischia Di Trovarsi Che Altre istituzioni Del paese Prendano Il controllo Della situazione Al posto suo Perché lui Non è più Di fatto Presidente In carica Esatto Il mandato È scaduto da tempo Tra l'altro Oltre ai duetti Tra Rostovic Diciamo E Zelensky Beh c'è sempre Zalusni di mezzo Ecco Ci sono Ci sono Quelli più ravvicinati Tra Zalusni E Zelensky Tra le altre cose Un'altra cosa L'altro giorno In un altro Sempre In un discorso Zelensky aveva Detto che La chiamata Alle armi Di 500 E rotti Mila Nuove Soldati È una Necessità Voluta Da Zalusni E lui Era contrario Quindi sta Già mettendo Anche le mani Avanti Su questo Zaluni L'ha smentito È certo Che lo smentisce Perché Questi sono Giochi delle parti Cioè L'uno Dà la colpa All'altro Delle cose Spiacevoli Che vengono fatte Ecco Però Se noi Volevo chiedere a Max Una cosa A tal riguardo Una sua opinione A tal riguardo Cioè Se noi Mettiamo insieme La Grande mobilitazione Di 500 Rotti Mila Soldati La costruzione In più Zone Dell'Ucraina Di ridotte Con trincee Fortificazioni Anche distanti Da alcune posizioni Del fronte attuale Cosa dobbiamo Aspettarci Come dobbiamo Interpretare Questo tipo Di Di azione È possibile Perché noi Non conosciamo Le reali Condizioni Degli stoccaggi Dei materiali Bellici In Ucraina Non conosciamo La loro autonomia Residua È possibile Che si trovino Di fronte Alla necessità Di ridurre Il fronte E non riescano Più a mantenerlo Stando all'attuale Consumo Di risorse Quindi debbano Ripiegare In zone Più Arretrate Per Rivedere La loro Posizione Difensiva C'è C'è Qualche Cosa Che può Essere Inteso In questo Senso O no Secondo te Ringrazio Per questa Domanda Perché mi Hai ricordato Che volevo Fare un Intervento In questo Senso Sicuramente Sì Nel senso Che già Ne hanno Parlato Di alcuni Comandanti Locali Peraltro Delle frange Più Estremiste Che però Sono stati A fronte Un sacco Di tempo E quindi In maniera Così molto Schietta Hanno detto Che bisogna Accorciare Il fronte Con delle Ritirate Perché non Si può Combattere Più in zone Scomode Perché non Ci sono Abbastanza Risorse Umane Non c'è Abbastanza Artiglieria Che protegge Le posizioni Scomode Per dirne Una Rabotino Con la Sacca Di lì Perché stavo Pensando Anche Al fronte A nord Est Da Artyomosc Fino A Kurdium A Kupiansk Invece Di stare Lì A Sincova Resistere Fino All'ultimo Uomo Poi Ricordami C'è Adesso Un video Su Sincova Molto Interessante Pino Il problema Di questa Mobilitazione Di questa Gente Diciamo Che Può stare Veramente Soltanto Con fucile Seduta In trincea O in un ufficio O in un magazzino Eh ma loro hanno una certa tendenza a mandare anche gente così non adeguata davanti Ha senso in una tattica che ho già visto nell'ultima settimana se non addirittura le due settimane Che penso tu avrai già notato soprattutto sul fronte di Crescesca dove a sud di Artiomosc dove praticamente loro mettono gente non tanto addestrata o pochissimo addestrata a fare carne di cannone Sì L'avevano già fatto ad Artiomosc Esatto Quando c'era l'avvicinamento ti ricordi Eh ma adesso in maniera ancora più secondo me Ma sì Ma sì Poi quando Diciamo I russi Irrompono E c'è il momento in cui Dopo che tu hai preso delle posizioni Ti assesti Anche con pochissima copertura d'artiglieria Diciamo dei pompieri Chiamiamoli così Vanno a spegnere il fuoco E a cercare di riprendere le posizioni in quel momento Quasi fisiologico Che c'è per cui le truppe di assalto Superato il momento dell'assalto Si stanno Eh assestando sulle posizioni nuove E ci può essere così una diminuzione di attenzione anche fisiologica E infatti se non erro Adesso non so se tu mi puoi conformare Hanno usato sempre il terzo Azov Per riprendere alcune posizioni di alture su Clicce Eh sì Però recentemente L'Azov è stato ritirato dal fronte Due settimane fa Eh poi ce l'hanno Dovrebbe avercelo rimandato Proprio per prendere quelle posizioni Perché non reggeva più il fronte Sì dici la zona fortificata a nord di Cliccefka No no a nord Quella a sud Ah sì Al nord di Cliccefka scusami A sud di Artyomus Certo Sì sì No e Ora questo schema secondo me Diventerà sempre sempre più frequente Non a caso hanno ritirato Girava voce una settimana fa Che Dalla testa di ponte A sinistra del Dignepro Hanno ritirato dei Marines E sostituti con la territoriale Perché questi corpi d'elite Verranno tenuti freschi Dietro Per cercare di andare a fare i pompieri Un po' quello che facevano i tedeschi Nel 1943 Se voi vi ricordate No Cioè La battaglia di Karkovo Che vinsero i tedeschi Venne dopo Salingrado Però loro la vinsero Proprio grazie a quel sistema Quindi Però Comunque È un sistema Che Che c'ha un Come posso dire La miccia corta Perché comunque Se incominciano ad esserci tante falle A quel punto Non basteranno neanche più Questi corpi di pompieri Che peraltro sono Pesantemente Pesantemente provati Come possiamo provare Con dei filmati Io partirei con quello di Sinkova Oltretutto Oltretutto Max Se ci hai fatto caso Sono sempre le stesse unità Che prendono E spostano di qua Spostano di là Esatto E questo li esaurisce Vuol dire che non hanno Molti altri reparti Che possano svolgere Quei compiti Dove devo andare Su Telegram Vai quel filmato Dove i russi fanno un macello Così almeno Diamo Non ci possono dire Che siamo completamente filorussi Che facciamo Ah ho capito Sì sì Allora è qui Quello Nella neve Con i carri armati Devi scendere giù Devi scendere tanto Sì sì Eccolo qua Allora Qui abbiamo A Sinkova In questo filmato Che spero che tu riesci a ingrandire No arriva Arriva Adesso arriva Dopo Eccolo qua Eccolo se lo riesci a ingrandire Un'altra cosa No Quindi questi arrivano Innanzitutto Un pochino troppo vicini Ringraziamo Dio che l'artiglieria ucraina È quasi assente Su questa Nonostante che è un punto caldo Sinkova C'è qualche colpo Quella Ma niente di serissimo Alcune unità Hanno lasciato giù Bene i loro soldati Altre si sono portati Tutti a ridosso Di un obiettivo Alcuni no Ma vedi qua Si ammucchiano Qua si ammucchiano E non lo devi fare Guarda proprio Addirittura si impicciano Sì Bastava che si fermassero A nord della linea degli alberi E girassero E infatti qua Un drone Gli tira qualcosa Che non Vede poi l'esplosione Subito Poi si vede addirittura Un ragazzo Poraccio Che si impiglia Con la giacca E viene trascinato Questi sono I momenti Drammatico Comici Della guerra Questo soldato Viene trascinato Dal portellone Che viene chiuso E lui si impiglia Con la giacca Fino a quando A un certo punto Sta giacca Si lacera E spero Non Non è che È una strage Di russi qua Non è che avviene Una strage Di russi Però Se Si comportano C'è un po' Di caos Che non ci dovrebbe Essere In truppe Diciamo Giavezze Anche perché La reazione ucraina Per adesso È limitata Poi che succede A un certo punto Ecco Anche qua Si raggruppano Questi Che stanno a fare Tutti raggruppati Così Una granata Ma questi sono I mezzi colpiti Non penso Quali sono I mezzi colpiti Si vedevano Anche a inizio Del video Non lo so Io Ti girano Qua vedi Arriva Un carro Un blindato Graino Questo qua Sulla destra Che spara E qua ci sono Dei soldati Che stanno Dietro la casa Non parlo Nemmeno a girare Ma io Non ho visto Neanche che abbiano Gli RPG Ce l'avranno Non è che Rimanderanno Ti dico Magari è stato Colpito Quello che aveva L'RPG Ed è rimasto Indietro Nel campo Non ci posso Credere Più di una volta Io Anche nel Settore Di Stepovo Ho visto Dei blindati Ucraini A girarsi In mezzo ai campi Sparando Verso Le linee russe Dalla parte russa Non è arrivato Mai Un Un RPG O c'è un RPG Un ATGM Qui siamo a distanza ravvicinata Quindi l'RPG Ci andrebbe Ma su quell'altro fronte Avrei visto Come minimo Un ATGM Un concorso O A altro Tipo Ma Era ovvio Che doveva esserci Questo per tornare Al discorso Che Quando Si va All'attacco E per forza Di cose Devi fare Una certa rotazione No Questo va bene No Questi sono quelli Che si sono arresi Non Non è necessario Diciamo Con Con Si devono fare Delle rotazioni Se il reparto Non è Avezzo Già al combattimento Possono succedere Questi Vedi Vedi qua Che c'erano Già quei mezzi Fermi Lì dove c'è La macchia scura Sono lì E' lì Che ci sono Quei mezzi Brucciacchiati Non li vedo Scusami Ah no No Sono solo Le macchie No No Io non Sono macchie Sono macchie Scusa Se tu Questo È un video Di Di Pravi Sector O qualcosa Del genere Vedi che Bagnera Tu pensa Se non Facevano Vedere Che c'erano Dei mezzi Colpiti Non penso No Pensavo fossero Già stati Colpiti In precedenza No Vedi Stanno lì Su quella Macchia nera No Si sono Accorpati Vedi Ecco Proprio Mancanza Di coordinazione Però Da parte Ucraina C'è di peggio E io qua Farei Metterei Il video Comico Veramente Comico Perché non Non si sono Feriti Sul serio Secondo me Perché Si giubbetti Antiproiettili Sono buoni Questo Tocca dirlo Abbiamo diverse Di testimonianze Fammi vedere Sì E' questo qua Allora Questo è bellissimo Questo è veramente Bello Allora Qua vedete Una squadra Di ucraini Che attacca Si danno l'assalto A una collina Che è tenuta Dai russi Tenuta Forse Dai russi Che conosce Vede un russo Che spara qua Comunque Diciamo Che ci sono Dei russi Si sono spaventati Si sono filati Dentro i buchi Qua ci abbiamo Il capo squadra Che giustamente Che è quello qui sulla destra Sulla destra Che giustamente Dirige l'azione E fin qua È da libretta Poi che fa Qui c'è il raggruppamento Degli assaltatori Che stanno aspettando Lo scoppio Della bomba Gli assaltatori sono raggruppati E spaventati Questi sono spaventati Sti ragazzi Si raggruppano Come le oghe Questo che fa Prende in mano La situazione Tira fuori La bomba a mano E la lancia In mezzo Ai suoi ragazzi Bellissimo Sì perché ha colpito terra Ed è tornato indietro Sul Sì sì Ma se ci ascolta Non ho però Che poi a occhio e croce Ci saranno stati Solo due russi Sulla postazione Quella Se c'erano Perché non hanno sparato Ma probabilmente sì Perché sparavano Sparavano Gli ucraini No sparavano gli ucraini Contro la postazione Sì loro sì Sicuramente qualcuno C'era E volevano stanarlo Con la bomba a mano Solo che Malauguratamente L'ha lanciata male Ma io devo stare zitto Sul lancio del bomba a mano Perché Al suo tempo È andata ancora Bene Che non mi è caduta addosso Quando l'ho lanciata La prima volta Io all'epoca ero bravo No Era il primo lancio Che avevo fatto Con Con una bomba a mano D'assalto A carica ridotta Comunque Che Mi fa Lancia parabola Ho lanciato così Ma Non è andata Esattamente A 45 gradi Più verso gli 80 Quindi È caduta poi A poca distanza Oltre O è quasi Per fortuna Non del tutto Ecco Comunque insomma Mandare Vedi qua Dovrebbe essere una squadra Diciamo Quelli di Di elite Diciamo Che l'hanno mandata All'assalto Ormai gli assalti Sono abbastanza rari Da parte ucraina Però La qualità È ancora più scarsa Di quella che abbiamo visto Pricedentemente La parte russa Diciamo Però in difesa È molto più facile Combattere Adesso All'ultima casa Eh Questa è l'ultima casa A Marenka Ecco Marenka Vuoi dire qualcosa Tu Stefano Che l'hanno Sì In media Non ne hanno parlato Che cos'è Marenka Marenka è Una cittadina Sud di Donetsk Vuoi far vedere La mappa Già che è Sì sì Vado subito Cominciamo con quello Sì Vado subito Con la Tolgo la condivisione Sì Vai E poi riprendiamo I filmati Eccola qua La vedete Sì la mappa Sì Allora Qui c'è Fedorova Dove è stata colpita La nave Come vedete Il fronte Lontano In questa zona Sono stati abbattuti I due caccia Su24 Per capirci E poi sono stati colpiti Dei depositi A Odessa Magazzini Presso l'aeroporto E altri Dove sicuramente C'era un materiale Stessa cosa A Nikolaev E in altre zone Allora Non è cambiato nulla Per quanto riguarda Il fronte Di Krenki Rimane lì Dove è Al momento Non sono ripresi I bombardamenti Con le Fab 500 Avevo visto male Io ieri Quando ho dato Questa notizia Adesso La smento Quindi siamo in zona Kerson Esatto Rabotino Abbiamo Invece delle nuove posizioni I russi Che stanno Cercando di avanzare Ancora Verso nord E hanno preso Delle posizioni In questo settore Che li pongono In ottima posizione Per tenere Sotto tiro La linea Dei rifornimenti Che vanno Verso Rabotino E quindi Gli ucraini Devono prendere Delle altre direzioni Poi Andando verso Aspetta Aspetta Parliamo della notizia Adesso arriva Delle truppe Cecene Sì Ecco In questa zona Qui Abbiamo L'indicazione Visiva Comprovata Della presenza In questo settore Di elementi Delle forze Akmat Probabilmente Unite A elementi Wagner Stanno operando Assieme Quindi abbiamo Truppe d'assalto Di ottima qualità Arrivando invece Al fronte Che collega Marinka A Novo Mikhailovka Abbiamo Che Su Novo Mikhailovka Si stanno Concentrando Le attenzioni Russe In vista Di un assalto Per prendere Parte della città Probabilmente Partirà Dalla sinistra Cioè Dalla parte est Qua Scusatemi Dalla sinistra Dalla parte est Della città Prendendo Una fetta Di queste zone Poi procedendo Per la lunghezza Poi Appoggiando L'attacco Russo Sul fianco Est Con Le posizioni Russe Che sono Sul lato Sud Queste zone Qui Questi Capannoni Sono In Mano Russa La conferma Da diverse Altri siti Tipo Suriac Map E altre Ancora Compreso L'ISV Che queste Posizioni Sono Detenute Dai Russi E quindi Sono a Ridosso Della città Nella parte Più a Nord Abbiamo La zona Di questa Roccaforte Che è Collassata Si sono Ritirati Da questa Zona Perché erano A rischio Di essere Accerchiati E poi Pobieda Pobieda Ci sono Dei bombardamenti In corso Che hanno Colpito Anche Il comando Di zona Ucraino E i russi Si stanno Ammorbidendo Le linee Ucraine Per poi Prendere Il controllo Di questa Località Che è Strategica Ed arriviamo A Marink La posizione Che ci stava Facendo Vedere In quelle Immagini Sono Quelli In questa Zona Se ben Mi Ricordo Che sono State Ripulite Dalla Presenza Ucraina Le Ultime Case Sono Ora A ridosso Di Georgievka Georgievka È Questo Villaggio Qui Che inizia Dove Finisce Marenka Marenka Praticamente Il territorio Di Marenka Finisce Dove C'è Questa Stradina Che attraversa I bacini D'acqua E Ufficialmente Diciamo Il villaggio Finiva In questa Zona La parte Abitata Vere Propria Però Hanno Atteso A dare La notizia Ufficiale Finché Non hanno Raggiunto La parte Ultimale Ultima Del Territorio Anche Le posizioni A sud Degli Ucraini Sono Scese Fino A questa Strada Non sono Più Su Questa Linea Sono Arretrate Fino Sulla Strada E Questo E questo Indicativo Come Vedete È Appena Alla Periferia Sud Di Donetsk Marenka Qui c'è La capitale Qui c'è Marenka Advevka Advevka Abbiamo Abbiamo Diverse Posizioni Interessanti Qui a Nord Si è Combattuto Parecchio Gli Ucraini Sono Tornati A Stepovo A cercare Di Riprendere Alcune Posizioni In questo Settore Soprattutto E poi C'è Stata La conferma Da parte Ucraina Di Della Morte Di 108 Soldati Durante Un Ricambio A Semenovka In questa Zona Qui Vedete C'è L'indicazione Di 108 Soldati Ammessi Da parte Ucraina Voglio Sottolinearlo Che Sono Morti Durante Una Rotazione Erano Arrivati Le Nuove Leve Che Sostituivano Quelli Vecchi Che Dovevano Andarsene Nel Mentre Sono Stati Colpiti Da Diverse Bombe Lanciate Dagli Apparecchi Russi Che Li Hanno Devastati La Parte Sud Al Momento È Stata Stabilizzata Non Ci Sono Nuove Offensive In Corso Gli Ucraini Invece Stanno Stranamente Cercando Di Avanzare Nel Settore Di Ugledar Scusatemi Di Orlovka Gorlovka Non capisco Come mai Visto Che è una linea Molto ben Difesa E da truppe Che sono Locali E quindi Non cederanno Un passo Senza far Pagare Un carissimo Prezzo Agli Ucraini E poi Non c'è Prospettiva Di avere Un'iniziativa Lì Semplicemente Forse L'unico Settore Dove I russi Non stanno Avanzando Premendo E quindi Hanno provato A attaccare Loro Segno Che Stanno Concentrando Parecchio Le forze Gli ucraini Quindi No No In realtà Hanno mandato Le unità Che sono Lì sul Posto Non ho Indicazione Di concentrazione Di truppe Ucraine E' andato Via Max Eh sì E poi Nella zona Nord Qui c'è La zona Fortificata A nord Di Kleshkiewka Di cui Faceva Riferimento Max Pocanzi Abbiamo Invece I ceceni Che hanno Preso Questa zona Delle Dace E si preparano A dar l'assalto A Ivanovo Che è qua Dopodiché Gli ucraini Hanno tentato Un contrattacco Su Artemoskoe Questa zona Qui Ma è fallito E i russi Sono di nuovo All'attacco Lungo Le sponde Di Berkovka Che è Questo villaggio Che insieme A Ivanovo Crea Quella Formazione Avanzata Che porta Le linee russe Verso Chasiviar Presa Berkovka E presa Ivanovo Si apre La strada Per raggiungere Questa roccaforte Ucraina Chasiviar Che potrebbe Creare Un problema Alle linee Di difesa Ucraina In futuro Dopodiché A nord Abbiamo Altre indicazioni Come vedete C'è molta Attività Sud Di Cremennia Questo fronte Si sta Riscaldando Molto C'è molta Attività Questo fronte Invece poco più a nord È molto interessante Da seguire Perché Aspetta che guardo Sull'altra Pagina Che potrebbe Essere più Aggiornata Aspetta un secondo Che vediamo Qua Ok Qui indica Già meglio Che gli ucraini Si sono ritirati Fino A questo Punto Dove si Biforca Quelli che sono Crepacci Diciamo Nella Nella pianura Punti che Convogliano L'acqua Dove scola L'acqua Perché Questo Perché Sono stati Individuati I filmati Che vedono Le posizioni Russe In questa Zona Più avanzata Mi sentite? Si si sentiamo Bentornato Ed è molto Interessante Da seguire Questo tipo Di avanzata Perché Si sono portati A solo Due chilometri Da Terni Terni A questo Centro qua Ho visto Che anche Nella zona Di Nell'ISV Dava queste Posizioni avanzate L'ISV È l'Instituto Study of War Che è Un istituto Americano Della famiglia Kagan Che Kagan è il marito Di Nulando Per capirci Tra Ucraini Al massimo Esatto È assolutamente Filo Nato E quindi Conferma però Le posizioni avanzate Dei russi Su questo settore Stefano Per informazione Oggi abbiamo pubblicato Sul sito Di Italia del mondo Un documento Della ISV Sulla Crisi Diciamo Dell'Ucraina Sulla implicazione Di una sconfitta Dell'Ucraina Che è interessante Da leggere Vai Quello che riguarda L'arrivo delle linee russe Al confine con la Polonia Sì Ecco Ecco È molto interessante L'ho letto anch'io Perché È interessante capire Se Ritengono Che un'estensione Dei confini Della Nato Con la Russia Sia un vantaggio Per la Nato O se sia un problema Perché bisogna capirci Siccome Sono molto contenti Dell'entrata Nella Nato Della Finlandia Tanto che Devono spostare Là Delle truppe Delle forze Delle basi militari Perché è un paese Di 5 milioni Di abitanti Scarsi Con 1500 chilometri Di confine Con la Russia Ecco E in quel caso Loro lo presentano Come un vantaggio Per la Nato E poi si debbano Invece preoccupare Se L'esercito russo Dovesse arrivare A contatto Con La Polonia Ecco Perché in quel caso Aumenterebbe La superficie di contatto Tra la Nato E la Russia Ecco Allora Capiamoci O volete L'estensione Della Nato A est Fino ad arrivare A ridosso Della Russia Ma dove fa comodo A voi O è un problema Invece Se La necessità Di difendere Il territorio Della Nato Implichi Magari Uno sforzo Bellico Maggiore E che magari La Nato Non è in grado Di sostenere Perché ricordiamolo Un paese Da 5 milioni Di abitanti 1500 chilometri Di confine Ha un apporto Alla sicurezza Della Nato Inferiore a zero Nel senso che Crea più problemi Che Risolverne altri Ecco Qui posso Fare una piccola Parentesi C'è un fatto Importante Che però Va sottolineato In questa Mancanza Di arrivo Comunque fortissima Dimensione di aiuti Da parte Degli Stati Uniti E anche Una certa Perplessità Dei grandi Paesi europei Per quanto riguarda Questo flusso di aiuti Verso l'Ucraina La Scandinavia Quando dico La Scandinavia Intendo dall'Islanda Alla Finlandia Per passare Da Rimarca Norvegia E Svezia Si sono riuniti I ministri Degli esteri Di tutti Questi paesi E hanno Dichiarato E anche Con i fatti Concreti Praticamente Volere essere La punta Di diamante In attesa Che rientrino Gli americani Con l'avvalo Del congresso Per gli aiuti Ucraini Ed essere La punta Di diamante Europea Di aiuti Verso gli ucraini Tant'è vero Che sono stati presi Degli accordi Per la produzione Del Street Ford Si dice In svetese 90 Che È Un Diciamo Un Carro leggero Da combattimento Trasporta truppe Possiamo definirlo così Un po' come Bradley Il CV 90 Dici Sì Sì Però nella versione ultima Adesso Pagato Dai due ricchi Paesi scandinavi Perché gli altri Sono poveri Praticamente Finlandia e Svezia Sono poveri Però La Svezia in particolare C'è una bella Industria manifatturiera Invece Danimarca e Norvegia Si accollano I costi Diciamo Di questa produzione E La Svezia Avrà il vantaggio Di Avere delle commesse Del Street Ford 90 Per Diciamo Mandarle Poi in Ucraina E La Finlandia Non so se Prenderà Se non l'ha già presi Questi Street Ford 190 Dell'ultimo Di ultimo No È un bel È un bel blindato Quello Sì Sembra che Quello che ha fatto Il miglior risultato Forse Forse Non mi ricordo Tra tutti Anche se Una volta L'ho visto Bugare Con l'RPG7 Con il blindato Su un film Per carità Ma quello tutti Però Ma poi Se ci hai fatto caso Sono apparsi Diversi video Di Street Wagon Cioè Di Carriarmati 122 Che poi sarebbe La versione svedese Del Leopard 1 a 5 2 a 5 Scusami 2 a 5 1 L'abbiamo visto Però è rinforzato Maggiormente Corazzato Ha punti Di rinforzo Anche sulla torretta Teoricamente È pari Se non superiore Al Leopard 2 a 6 Esatto Il loro Carro 122 Quindi dal punto Di vista geopolitico La Scandinavia Si pone Come punta Di diamante Perché ha un grosso Interesse Geopolitico Nell'indebolizione Della Russia Ricordiamo sempre Che la Finlandia Ha sempre Gli occhi Sulla Carelia Russa Che loro Hanno perso Diciamo Nel 44 45 Definitivamente E loro Si usa dire In Finlandia Della Carelia Russa Parlarne Mai Pensarci Sempre Si dice così In Finlandia Questo Per far capire Lo spirito Con cui La Finlandia Ha fatto Questo atto Suicida Perché poi In realtà È un atto Suicida Perché Una nazione Come diceva Stefano Di 5 milioni Di persone Con una frontiera Di 1400 Va andare A rompere Le scatola Un'altra volta I russi Dopo Tutto quello Che c'è stato Non voglio dire Che era colpa Soltanto Dei finlandesi Assolutamente C'è stata Sicuramente Un'azione Di tipo Imperialistica Da parte Da parte Di Stalin A suo tempo Però Anche i finlandesi Ci misero Del loro Perché Ebbero 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 Alleati Ebbero Una prosopopea No no ma Io parlo del 39 Quando ci fu La prima La prima guerra Agirono Con una prosopopea Senza parlare Poi degli Eccidi Di comunisti Finlandesi Che furono Fatti In Finlandia Nel 1920 Se non erro Quando ci fu La ribellione Della Finlandia Quindi Con una prosopopea Rispetto A un vicino Così ingombrante Che forse Non era il caso Come poi Si è La storia Ha stabilito Inequivimente Ora Stanno ripetendo Lo stesso Errore Con l'idea Che gli americani Ti salveranno In ogni caso Ma Gli americani Insomma Ne sanno qualcosa Quelli dell'Afghanistan Che poi Si sono dovuti Attaccare le ruote Dei Dei C-130 Degli Hercules Cioè Come poi Vanno Le cose Non c'è La Zoff Non c'è La Zoff No Sono stati Ritirati E niente Questo Questo Per fare Una parentesi Sul discorso Scandinavia Quindi Cioè Loro perseguono Il loro interesse Geopolitico Che Da secoli È quello Di espandersi Verso est Verso la Russia E soprattutto Da parte svedese Però Alla lunga E poco Lungimilante Però contando Sul sostegno Fondamentale Per forza Negli Stati Uniti Non siamo Al 700 Quando Con le loro forze Insomma Sono All'attentato Una bella Badossa A Poltava Perché Ricordiamo Sempre che San Pietroburgo Detta una volta Leningrado È stata Costruita Con i 20.000 Schiavi Cioè i 20.000 Prigionieri Svedesi Di Poltava I nostri Ascoltatori È bene Che lo sappiano Sai Fano Che facciamo Torniamo un attimo Alle immagini Sì Volevo vedere Un attimo Volevo vedere Un attimo Sulle mappe Dell'ISV Appunto Le zone A nord A nord Della Di Klischkevka Che vengono date Appunto In mano Ai Ai russi Così come anche La parte nord Di Klischkevka La zona Delle dace Come dicevo Dall'ISV Viene dato Appunto Completamente In mano Alle forze russe E questa è una mappa Filonato Però è molto Aggiornata Ed è disponibile A tutti Quindi potete Seguirle Cromovo Che a Artie Mosque Appunto È rimasta In mano russa Come vedete Anche qui Ecco Devo dire Che però Il cimitero Che l'ISV Dà in mano Ai russi A me Risulta Che sia stato Ripreso Dagli ucraini L'altro Ieri Quindi Forse Da questo punto Di vista Devo difendere Io Gli ucraini Da questo punto Di vista Mentre Nella zona Qui di Bogdanovka Manca Manca la parte Che ha visto I russi Arrivare In questo Settore Qui Che di Fatti Scusa Bogdanovka Hanno preso Il centro Di Bogdanovka Oggi Sì Sì Esatto Sono qui A metà Di Bogdanovka Russi Poi Anche la parte Sulla sponda Del punto Si sono mossi Parallelamente All'avanzata Su Bogdanovka Anche sulla parte In rilievo A nord Del villaggio E stanno Premendo Per prendere Questa Boscaglia Che è Importante Sì Da questo Punto di vista Presa Bogdanovka E Ivanovka Chiaramente È Nell'obiettivo Delle Stormtrooper Russe Che sarebbero Le forze Akhmat Congiuntamente Alle Wagner Presa Questa Presa Bogdanovka La strada Per Chasoviar È aperta E quindi Ci avviciniamo All'altro E diventa Diventa Una Una grande Battaglia Questa Per prender Chasoviar Se cade Poi È aperta La strada Per Kostantinovka Olexovo Druskovka E Kramatorsk A scelta A scelta Ho capito Io passerei Da sotto Anche se Sarebbe più comodo Scendere da Izum Dalla Ma sì Io passerei Da sotto Prendendo Toretsk E al girando La linea di difesa Questa linea di difesa Qui che è formidabile Sloviansk Kramatorsk Druskovka E Kostantinovka È praticamente Un unica Un unico centro urbano Di fatto E quindi È un incubo Io girerei intorno Non cercherei Di dare l'assalto frontale Oggi Per la prima volta Ho visto sulle mappe russe Apparire Izum Non lo vedevo Dai tempi Dell'autunno Izum è qua Per capirci Più a nord Però è ancora Molto distante È molto distante Però per la prima volta È apparsa Izum Come Era come dire Lì che stiamo puntando Insomma Quando è appunto da Rio Perché come stavo dicendo Prima A nord Del fronte di Limaschi Che è qua Torsk Kirovs E poi c'è Liman Ecco In questo settore qui C'è stato un grande Una grande avanzata Da parte russa Che sono partiti Da questa linea qui A quota 193 E hanno conquistato Tutto questo settore Sono arrivati Fin qui Dove si biforcano Queste zone Che sono Dei crepacci Insomma Dei punti In cui L'acqua si incanala Sono arrivati Fin qui Come vedete Anche la Mappa Dell'ISV Sì sì Questa è la mappa Dell'ISV Con le quote Hanno preso Infatti Le quote più elevate È importante Vedere Come questa mappa Qui sia Più aggiornata Di quella Che ho io Ogni tanto Che è questa qui Il military maps Che vedete adesso E che Sì Gioia e dolori È fatta bene Quando vuole Ma ogni tanto Si addormentano Si attarda E non mi aggiornano Alcuni fronti Che si muovono Più velocemente Di loro Ecco Benissimo Torno Visibile Interrompo Condivisione Sì Adesso Condivido io Quindi Quello che abbiamo Fatto vedere Sulle mappe Cominciamo A offrirlo Visivamente Sul campo Su quello che succede No Qui Parlavamo Di truppe cicene No Sì Qui siamo In fronte Di Rabotino C'è L'esempio Del Del carro armato Impattanato Che non è nuovo Come scena Ah Sì Però Questo è un CV 122 È un Stridswagn 122 Ah STR 122 Ok In svedese Si dice così Stridswagn 122 Che è sempre Caro da combattimento Sì Questa è in evidente Difficoltà Ma sì Perché sono cari pesanti Capito E anzi Il Leopard Tanto tanto Ma di fatto Qual è il problema È che S'appoggia Con la pancia Al fango E i cingoli Iniziano poi a Eh certo A slittare A slittare Sì È finito Sì 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 Allora poi Riesce ad andare Però è sicuramente In difficoltà Allora Traiamo le conclusioni Di queste Settimana calda Di avvenimenti Allora tolgo Chiudi pure La condivisione Con la mappa Hai sorrito Stefano Sì Sì No C'era solamente La parte A nord Di Sinkovka Dove c'era Era la zona Dove avevamo Fatto vedere Il video Dei carri armati Blindati Russi Che avanzavano Sul villaggio No Mica Locca Oggi C'avevo Che hanno preso La prima strada A sud-est Diciamo Max volevi No Sarà un inverno Caldo Sicuramente Speriamo Speriamo Così risparmiamo Anche sul riscaldamento Un inverno caldo Diciamo Per gli ucraini Per i russi La presa di marini Che è importante Perché Tendenzialmente Fa ritrarre Di qualcosa Delle artiglierie Però anche oggi Sono arrivati 170 colpi Su Donetsk Una media Delle ultime Due o tre settimane Erano 140 colpi Pesanti Ci sono feriti Tutti i giorni Spesso morti Parliamo Nella città Di una volta Era un migliore e mezzo Di abitanti Questo Non ne parliamo Sempre Perché poi Alla fine Sono sempre Le stesse immagini Di istruzioni Dei civili Ma sono Cose estremamente Pensanti A viverle In prima persona E questa È triste È triste Che Nonostante La venura Di proiettili Gli ucraini Non mancano Di mandare 140 confetti Ogni giorno Sui civili Quindi Da qui L'aspetto Terroristico Diciamo Sì Perché Quando L'esercito E alla fine In mano A degli esaltati Nazionalisti Ai neonazisti Ucraini Questi sono i risultati Diventa prioritario Anche rispetto Al fronte Che ci hanno bisogno Abbiamo visto A Sincova Un gran casino Che se tiravano 10 colpi Artiglieria Facevano una strage L'artiglieria Era assente Perché non c'havano i colpi Però i 140 colpi Per Donetsk Ci saranno tutti i giorni Questi sono In un'altra occasione Su quel fronte Ho visto tirare Su due blindati Russi Che avanzavano Due javelin Quindi Qualche cosa Hanno portato Poi Quell'assalto Lì Andò Così Poi Le posizioni Non credo Che siano state Mantenute Dai russi Per cui Stanno E' ancora Tutto in disputa Lì Diciamo che Gli ucraini Mettono Molte 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 Risorse Per difendere Quel villaggio Questo sì Perché è strategico Su questo Si può Fare qualche Considerazione finale Nel senso Che Dovendo Se Dovesse Decidere Lo Stato Maggiore Probabilmente Zelensky Insomma Il comandante In capo Insomma Il responsabile Politico Un cambiamento Di tattica Rivolto Più Sulla Difesa A quel punto Si potrebbe Prospettare Addirittura Un ulteriore Prolungamento Della guerra Di fatto Quindi Ma con la Mobilitazione Dici Sia con la Mobilitazione Sia sul fatto Che L'esercito Ucraino Comincia ad assumere Un atteggiamento Difensivo Dichiarato Quindi anche Di relativo Contenimento Delle perdite Almeno Ma Diciamo Che Se assumono Con la mentalità Che hanno dimostrato Fino ad oggi Un assetto Difensivo È perché Non hanno possibilità Di ripetere Un assetto Offensivo Perché sono più votati Alla seconda Che non alla prima È un Far buon viso A cattivo gioco Ecco questo Devono amministrare Per forza di cose Le risorse Che hanno Perché di nuove Non ne arrivano Il problema è Funzionerà In una situazione Crescente Di deficit Di artiglieria E di aviazione Punto di domanda Perché 24 F16 Ma fossero Anche 60 Non cambieranno Assolutamente Non alterano Il rapporto Ma avevano 500 aerei Gli ucraini E non hanno E non hanno Comunque retto Alla lunga Il confronto Con Con l'aviazione O le forze Di difesa aerea Russe Quindi Cosa vuoi che facciano 20 o 50 Caccia In più Io penso A Krynky No Come dicevi Giustamente Krynky Che era sbversagliato Dalle FAB Che sono Queste bombe A guida Che vengono Lanciate a 40 60 km Massimo 40 km In media Dall'appunto Di obiettivo Della bomba E l'abbattimento Di uno Forse due S U 34 Improvvisamente Non ci sono più Le FAB A Krynky Sì perché Stanno cercando Stanno cercando I I mezzi Antiaerei Di fatto Ci sono Molti Droni Di osservazione Russi E Lancet Che agiscono Nelle retrovie Da due giorni Da due giorni Quindi Stanno sicuramente Dando la caccia I mezzi Antiaerei Su questo è chiaro Però comunque È un rallentamento No Sì ma Più o meno Nel senso che Danno un po' Di respiro A quelle forze Lì Pensa che se Invece 24 F-16 Cominciano a fare Quel lavoro Che lanciano I missili E poi Riprendono In caricano Questi AWACS Nella Nato Per condurli Contro Gli aerei Russi Qualche Impatto Ce l'avranno Secondo me Allora Il problema Che possono avere In questo caso È uno Che Gli AM 120 Hanno una Gittata Inferiore A quella Che è la capacità Di un A50 Beriev Di individuarli E dei MiG 31 Su 35 Che lanciano L'R37 Di intercettarli E cioè Loro arrivano Sono visibili Dal radar Prima Di arrivare A tiro Con Il loro Missile E possono Essere Abbattuti Prima Che possano Lanciarlo Perché A differenza Dell'AIM 120 Il R37 È molto Più veloce E quindi E i Personi Il problema Che i russi Ce ne hanno Pochi Di quegli aerei MiG 31 MA 50 Beriev Di questo tipo Qui Non ne hanno Tanti Ma Possono Comunque E fare La differenza Perché Ripeto Al momento I MiG 29 O Che stanno Usando Montano Gli stessi Missili O bombe Che possono Lanciare Gli F16 Gli SU 24 Montano Sotto Le loro Gondole Gli Storm Shadow O possono Montare Eventualmente Delle bombe A guida Planata Che però Non gli hanno Neanche fornito Perché Perché Hanno Dei forti Limiti Di Dovuti All'utilizzo Combinato Degli Gli Hawax Russi Con Le forze Di difesa Aereo Di fatto Oltre a Pilotare O guidare Sui bersagli Le SU 35 I MiG 31 Possono Guidare Sui bersagli Anche a 15 Metri Da terra A distanza Di 200 Kilometri Da Quindi Prima Che possano Lanciare I loro Missili Le loro Bombe Gli S-400 Direttamente Sul bersaglio Ed è con Quello Che hanno Fatto Una strage Di caccia Ucraini Negli ultimi Tre mesi Parliamo Di più di 40 Parecchie E però E quindi Direi di concludere A questo punto C'è Comunque L'aspetto Politico Che si tratta Di un regime Che Che è Affondato Sulle Proclami Di vittoria Diciamo La propria azione Quindi Sui proclami Di riconquista Dei territori Diciamo Presi Dai russi E dagli abitanti Locali Insomma Del Donbass Via dicendo Questo bisogna Sempre Ricordarlo E che Probabilmente Avrà una qualche Difficoltà A far digerire Assimilare Il concetto Di azione Difensiva Piuttosto Che di attacco Tanto più Che sta arrivando A un livello Di mobilitazione Generale Veramente impegnativo Per la popolazione Quindi sarà Un po' La cartina Di tornasole Che ci farà Capire un po' L'evoluzione Politica E anche Di fattibilità Del conflitto Ecco No? Sì Penso Io ho l'impressione Che su questo Sei un po' Ottimista Pino Perché Il mondo ucraino È un mondo È un mondo Diciamo Distopico Dal punto di vista Democratico Cioè non c'è la democrazia C'è un apparato Di ripressione Che è difficile Per noi Immaginare È un apparato Di ripressione Come quello Che c'era Durante il covid All'ennesima potenza In Italia Con una violenza Che noi abbiamo mostrato In tantissimi filmati Di mobilizzini forzate Tutto questo Aumenterà Moltissimo Io fin quanto Non vedo Come ha detto Restovic Questa è una cosa Che ha detto Restovic Che presto Gli ucraini Spareranno Alle squadre Di reclutatori È stata una cosa Ma infatti Girano già Con i soldati armati E le squadre Di reclutatori Hanno sempre girato armati Però diciamo Fino adesso Ah c'è stato Ecco c'era un video Che abbiamo mancato Di un villaggio Di Zingari Un villaggio Di Zingari La volta scorsa Sì Li hanno pestati Come l'uva Li hanno pestati Come l'uva Ai reclutatori Però se questo Se ci saranno Delle azioni In questo senso Cominciano ad essere Cine azioni In questo senso A Macchia di Topardi In Ucraina Allora Hai ragione te Pino Ma fino adesso Sia per la tempesta Mediatica Degli ultimi Dieci anni Sia Per la paura La depressione È fortissima Io non ho visto Forme di Di ribellione Non so se tu Che cosa ne pensi Stefano E poi No Ribellione Ribellione al momento Non credo Però Di fronte a una Mobilitazione Di questo tipo E ai posti di blocco Lungo le strade Probabilmente La popolazione Capirà Di essere stata Quanto meno Ingannata E che effettivamente Tutto ciò Che viene raccontato Sui media È diverso Dalla realtà Dei fatti Questo da questo Punto di vista Qui sì Però Sapendo come Trattano E come Si confrontano Con il dissenso I battaglioni Neonazisti Credo che Abbiano intimorito A sufficienza La popolazione Da impedire Ogni Ogni reale Manifestazione Perché lì non si tratta Di prendere delle botte Quelli sparano E ammazzano Quindi La situazione Da questo punto di vista Sono pessimista Sul fatto che Un domani invece Possano mostrare Rancore Nei confronti Dell'Occidente A causa Dell'essere abbandonati Allora Un altro discorso Bene Direi di Chiudere Su questo Sì Va bene Bene Allora un saluto Auguri per il prossimo anno Buon ascoltatori Buona fine Buon annunzio a tutti voi Buon 2024 a voi